La disabilità molte volte è solo negli occhi di chi guarda e ci vuole tanto poco per rendere la vita più semplice alle persone, veramente tanto poco. È con questo spirito che Gianluca Santinelli, agente di viaggio maceratese che vive a San Severino Marche, ha avuto l'idea di creare bedtravel.com, un nuovo portale web gratuito per aiutare le persone con disabilità a viaggiare e sviluppare in Italia e perché no nel mondo un turismo accessibile a tutti. Sembra strano perché l'idea è anche abbastanza semplice, però mancava un contenitore, uno spazio che dia voce comunque sia a persone che hanno determinate esigenze. Infatti il simbolo di bedtraveler è un megafono, un megafono per far sentire comunque le voci a persone che finora non hanno potuto farla sentire come avrebbero voluto o dovrebbero farla. Dunque uno strumento per condividere recensioni in tema di accessibilità e di inclusione, ma soprattutto uno strumento di sensibilizzazione per tutte le strutture. Accessibili a 360 gradi, non intendiamo soltanto le persone con disabilità motorie, ma anche persone magari che ipovedenti, persone cieche, sordomuti. Immaginate, tante volte si associa il discorso della disabilità alle persone in sederrotelle, però c'è un altro mondo enorme attorno. Immaginatevi una persona sordomuta che va a fare un cecchino in un albergo e trova la reception una persona che parla la lingua dei segni. Pensate che il valore aggiunto potrebbe essere per la sua esperienza di vacanza, ma anche per la vita di tutti i giorni, perché il portale è soprattutto per la vita di tutti i giorni. Ora, lo step successivo, una crescita costante sia economica che di visibilità, con il coinvolgimento di partner privati e pubblici, come per esempio le tante associazioni che ogni giorno convivono con la disabilità. Assolutamente, noi siamo aperti e vorremmo dare visibilità sia attraverso il portale, ma anche alla pagina Facebook, per Traveler e alla pagina Instagram. Vorremmo dare visibilità alle azioni e alle iniziative delle associazioni.